belli amici della banda siamo al secondo episodio di questa fantastica nuova serie questo nuovo format cazzeggiando sul play store ho trovato questo fortress saga con 500.000 da un l'ho detto ciao proviamolo voi fatemi sapere se lo giocate già se ve lo consigliate se non lo conoscete se lo volete rivedere dopo questo video comunque commentate mettete like come al solito ricordatevi che c'è anche il gruppo telegram per parlare ancora di Yoke Watch o di altro e poi io direi di provare sperando che sia un landscape e non in verticali vediamo un po' attenzione possiamo mettere perforato i timpani allora abbiamo ben 366 mega da scaricare scarichiamoli ci interessa l'intro? direi di no scappiamo fortress saga allora allora star advent attenzione enter a name come sempre ci chiamiamo jack prot ok io spero che non mi piaccia anche sto gioco siamo fregati prot tendenzialmente gli fk non mi fanno impazzire vediamo un po' vediamo un po' è Luis, the main character of this game, ok, Cor dice, I'm the center of action, the fortress is under my command, ok, this is Cor, the center of the war 3, has a special power, now let me introduce you to my childhood friend Iris, però è giapponese, attenzione, potrebbe essere interessante, facciamoli parlare, non c'è, oh oh oh, spara, ma, ah ma non stavo sparando io perché avevo cliccato col mouse, che pirla, Sì, non ho capito cosa devo fare, ok, abbiamo droppato roba, intanto io ne approfitto per sistemare mentre ci spiega, oh oh, c'è la boss fight, oh, tanto sta giocando da solo, ok, Adesso dovremmo vedere full screen Scusate, c'ho la tosse, raga, confirma, non so cosa stiamo facendo Mi sembra che parli un po' in giapponese e un po' in cinese, però abbiamo le sub in inglese Magari è coreano Secondo me è coreano, raga Non so cosa sto facendo Stiamo livellappando Non si sa, io voglio, non c'è da pullare qualcosa, io voglio pullare, raga Spendiamo le nostre monete, ok Livelliamo pure lui, vai, non so cosa sto facendo Oh, 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 fammi uscire Come faccio a uscire da qua? Ah, qua, upgrade C'è un tizio che ci sta scannando, lanciagli la bomba No, non fa per me sto gioco, raga Ma poi non capisco cosa stiamo facendo Io non voglio continuare a livellare Voglio capire come usare i miei soldi Raga, mi sta mandando in drama sto gioco Grosserogger Defeat Monster, ok Summoniamo il boss Vabbè, allora, tecnicamente Io voglio pullare Io voglio diventare più grosso Come si fa? Ci ha scannato, giustamente Allora, dobbiamo salire ancora di livello Ok, siamo saliti di livello in difesa Ma tu, Cor, che cosa sei? Sei la mia fortezza? Santo Dio mi sta mandando in drama Ma poi cos'è sto... Ma io faccio vedere Adesso tecnicamente dovremmo essere più forti Become Stranger Waker? My guide mission Ok Abbiamo il boss Vediamo un po' se ci scanna Adesso ci siamo potenziati Lanciamo le bombe Facciamo un fracco di danni adesso Allora, Cor mi sa che è la forte Ok, l'abbiamo scannato Easy, 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 raga Easy Andiamo avanti, andiamo avanti Che cosa mi... Cosa devo fare? Con estrema precisione Trecento L'ho portato al... Al nove Partiamo ora al dieci Andiamo al dieci Ok Abbiamo sbloccato un cifro di roba Ok Ma adesso siamo immortali Come Tra l'utilizzo del gold E top grand core Ma perché devo usare tutto il mio oro per... L'ho portato al 30 Cioè Che senso ha? Summoniamo il boss Intanto riscattiamo robe Tra l'altro è fastidioso Abbiamo le salmon Incredibile Abbiamo le salmon Io voglio summonare Che abbiamo droppato roba Summoniamo cose Oh Oh Sono queste le cose che ci piacciono Possiamo summonare i cannoni Io voglio vedere le probabilità Allora abbiamo Non lo so Raga non ne ho idea Summoniamo Abbiamo dieci biglietti Vai summoniamo Eeeh Che cazzo sono queste cose? Mi manda in drava No no basta Va bene così Ok Possiamo potenziare la nostra fortezza Normale Livello 4 Cosa vuol dire? Avete regolato Un canno e io can fuse Ok Fondiamo tutto Equipa Oh mamma mia Mi manda in drava Fondiamo Voglio fondere Ah ok Non possiamo fondere Va bene Cannone Cosa devo fare Giovane? Niente Abbiamo finito Placement No non abbiamo eroi Ok Torriamo indietro Possiamo riscattare altre cose Strano Possiamo upgradare 100 No Purtroppo Gli altri 20 E altri 20 Quindi siamo al 50 Live up Core 6 Di livello Non sto Giuro che non sto capendo niente Raga questo gioco non mi sta facendo impazzire Questo è un buon gioco di merda Niente Sto continuando da A non fare niente Continuiamo a riscattare cose Upgrade Facciamo Altri 20 livelli Ok E lui è contento Aspetta Non abbiamo lave da prendere L'up core Ho capito ma Taut Petra Di che livello è? Cioè quanto Non mi dai Niente Abbiamo scassato Oh Abbiamo trovato Victor Ma Le cose si fanno interessanti Quando si droppano cose Ci piace Ci piace Ok Dobbiamo Oh Lo possiamo equipaggiare Ok Abbiamo due eroi adesso Ottimo Vediamo i dettagli Posso livellarlo? No perché non abbiamo troppato niente Neanche equipaggiamento Mi stavo incartando Ah ma Victor è giù Ma poverino Victor cioè Prende delle sberle incredibili Ma qua ci fa vedere la vita di Victor Tutto l'attacco Ok attenzione Però Victor mi sembra un attimo P Sicura da solo? Autoskill button Is not activated Va bene Va bene Va bene Autoskill Andiamo avanti Allora si stanno facendo interessanti le cose Possiamo summonare ancora Abbiamo altri biglietti Summoniamo Walk out No non è vero Mi sembra tutti uguali queste cose qui Aspetta no sono diversi Ma che c... Come si faceva? Expand Crea run event to unlock Ok Il cannon Abbiamo equipaggiato Lui Lui però mi sembra più grosso 7 su 5 Mi sembra più grosso Fonde Ok Equipaggiamolo Ah dobbiamo guardarci le statistiche Abbiamo perso vita No 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 Giovane Torno indietro Torno indietro Il 4 forse è più forte Il 4 è più forte Esatto Infatti ci dà più... Ok 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 sto capendo Fonde va bene Ok non me ne frega niente Placement Mamma mia è un drano Upgrade Sono pieni di grana Attenzione Li porto l'attacco al 70 Abbiamo fatto Ben due livelli di core Core adesso è senza senso Dungeon Ok Facciamo un dungeon raga E poi E poi tiriamo le somme di questo gioco Di cui ignoro completamente il nome Era Fortress Dungeon Impresso Dobbiamo livare What? Niente non ci piaceva Abbiamo già finito? Abbiamo equipaggiato Ma qua si potenzia tutto Adesso ci lascio 300 euro Per capire come si gioca Ma non è vero Attenzione Livello 10 Stiamo passeggiando Sui nemici Possiamo Upgradare Core Che è stato di livello Come sempre Boss Boss fight Perché c'è Victor lì da solo? Dai scanniamolo Twilight golem Scanniamolo raga Cioè abbiamo Potere di danno Infinito Abbiamo passeggiato pure su di lui Easy 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 Ecco lì Guarda lì Caccia un euro Ehm Allora direi che mi sono già stancato di questo gioco Ha il suo perché Del tipo Perché dovrei giocarci E questo è il suo perché Non sono convintissimo Però 500.000 persone Ci stanno giocando Non lo so A me non fa impazzire Raga a voi? Vi sta piacendo sto giochino? Lo giocherete? Secondo me no Direi Che Mi sono già stancato Per oggi È tutto Ci vediamo alla prossima Forse domani riesco a riccare un altro video Raga Ci vediamo Un salutore Commentate Lasciate like Ciao ciao